Buongiorno, salve a tutti, ciao, ciao ragazzi. Allora, oggi ci sono alcune cose di cui parlare, alcuni argomenti di cui parlare. Voglio assolutamente fare una bella chiacchierata insieme a voi con focus principale su Angel Di Maria, che credo che sia un po' l'argomento di dibattito più interessante lato calcio. Poi c'è una novità, lato Juventus. Si è svolta ieri sera appunto una presentazione di cui parleremo nel dettaglio e poi per finire invece voglio parlare anche di un ultimo argomento, pelo polemico, una vela polemica, ma credo che sia anche giusto perché ormai ve l'ho detto in questo mese. Questa è una mia battaglia, una mia crociata, voglio portarla a termine perché certe cose mi danno fastidio. Direi di partire appunto da quest'ultima parte per poi passare all'argomento di ieri sera e poi parlare infine di Di Maria, il campo, il bello ce lo teniamo per ultimo, iniziamo dalle cose più brutte. E cioè stamattina su Twitter apro e leggo Giocatori della Juventus rischiano una squalifica e la Juventus rischia dei punti di penalizzazione per via dell'inchiesta. Prisma, titolo di gazzetta, articolo di gazzetta, al che dico wow, che cos'è successo? Ci sono novità? Allora apro il link, voglio andare a leggere che cosa c'è scritto e cado nella trappola del clickbaiting perché intanto l'argomento, l'articolo è un argomento premium quindi soltanto chi ha l'abbonamento a gazzetta può leggere questo articolo di tale Valerio Piccioni, giornalista della gazzetta dal 1990. Io non lo conoscevo, sono andato a guardarmi un po' di articoli che aveva scritto uno dei suoi ultimi articoli riguardava il gol di Turone per intenderci, no? Quindi argomenti sempre di alto livello e sempre attuali. Questo articolo inizia così ma a che punto è l'inchiesta sportiva sul caso Juve e la mappa dei rischi di sanzioni calcistiche per il club? Quasi come per dire, tu lettore, ma mica dimenticarti, no? Che queste cose ci sono, ci sono novità? No! Però tu non te le dimenticare queste cose e a che punto siamo? Nel senso, se danno una mossa qui dobbiamo aspettare ancora tanto perché una frase del genere come inizio di un articolo mi lascia intendere questa roba qui, no? Poi dice, per provare a rispondere si può cominciare da un passaggio delle ormai famose carte, del Torino, della Procura, bla 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 Quindi tutte cose che, quante volte le abbiamo dette? Mille? Due mila? Forse tre mila? Noi però nel dubbio facciamoci un articolo dicendo cosa rischiano oggi i giocatori? Una squalifica? Si fermeranno? L'Avivento si farà dei punti di penalizzazione? Da niente! Ci sono aggiornamenti? No! Però, a che punto siamo? Ricordiamolo al lettore che Io torno all'antico punto antico ancestrale Lei, se è colpevole, pagherà Agnelli, Nedved, Paradisi, se è colpevole, pagheranno Ma che senso ha lato informazione sportiva? Cioè, un quotidiano come Gazzetta dello Sport Stiamo parlando degli aggiornamenti di Pinco Pallo Gazzetta dello Sport, quotidiano sportivo più venduto in Italia Fare un articolo su una roba in cui non ci sono aggiornamenti Prima pagina I giocatori della Juve rischiano una squalifica? La Juventus rischia dei punti? Lo apri, è a pagamento e inizia Ma a che punto siamo? Ma facciamo un ripassino che non si dimentichi nessuno Boh, a me questa non sembra informazione Tutt'altro Non mi sembra nemmeno giornalismo Se devo dire la verità Non mi sembra assolutamente logico, coerente E nemmeno professionale Io queste cose quando le noto ve le metto Ve le risalto Perché non le voglio lasciare passare Ribadisco La Juventus è colpevole Pagherà Ma ci sarà un tribunale a stabilirlo Non degli articoli così Tanto per Non dimentichiamoci È finito il mondiale Si vede che è finito il mondiale Ci sono pochi argomenti Allora tiriamo fuori Riesumiamo un po' Di cose che Le persone non devono mica dimenticarsi Che adesso arriva Natale Mangiano sotto Natale Ha i pranzi, le cene Che arriva lo zio Ma facciamogli ricordare Che c'è questa roba Facciamoli parlare Facciamo tornare fuori Sto discorso La gente non deve dimenticarsi Non deve finire lì Adesso c'è stato il mondiale Adesso è finito Adesso torniamo a parlare Di queste cose Prima che del campo Dicevo l'altro giorno su Twitter Io credo che Tante persone Più che del calcio Come sport Come gioco Siano innamorati Del contorno del calcio E della polemica Ed è una cosa brutta Perché tante persone Davvero del pallone che rotano Non mi freghe niente Niente Loro sguastano Dentro la polemica E si è creato Una vera e propria community Anche qui Di persone Che davvero le partite Guardarle Non guardarle È uguale L'importante Parlare di calcio L'importante Avere un'opinione L'importante Sguastarne la polemica Questo è un po' Quello che mi pare di vedere Ed è un vero peccato Perché probabilmente Non riescono a godersi Appieno Quello che è Che veramente Il gusto Sportivo È un peccato Veramente un peccato Passo avanti Ieri Juventus Ha annunciato Una collaborazione Con eSport Di eSport Io qua sono Abbastanza ignorante Io gioco molto A FIFA Però Non mi frega niente Del competitivo Quindi dato che Non ho ben capito Che cosa sia accaduto Perché Lucone Campolunghi Fosse a Torino Sul palco Insieme a Sule Fagioli Lo chiedo a voi Dato che so che invece Tanti di voi Sono attivi Sotto questo punto di vista Io mi sento vecchio A dire queste cose Vedete Inizio ad essere un po' Boomer Quando superi 30 anni Poi certe cose Non le capisci Nel mondo degli eSports Non ci sono Gioco Sì Ogni tanto Anche su Twitch Abbiamo fatto qualche Live così Però non Non sono pratico Quindi per una volta Sono io che chiedo a voi Di spiegarmi nel dettaglio Perché ho visto tante persone Gasatissime Su Twitter Per questa cosa qui Invece io non riesco A gasarmi per questo Quindi Però mi sono gasato Per Di Maria Un po' l'argomento Principe del video E come vi dicevo La parte inerente Al dolce Il dolce lo tieni Per ultimo Per un motivo Deve lasciarti Quel gusto piacevole In bocca Di Maria Di Maria Allora Di Maria Ne parlavamo anche L'altro giorno Mi dicevo Pogba Di Maria Operazioni discutibili Per la Juve Qualcuno si era arrabbiato Discutibili Fallimentari C'è questa voglia Di etichettare subito Io Credo di aver imparato Intanto nell'arco Del tempo Quindi mentre sono cresciuto Guardando il calcio Perché sono innamorato Del calcio E anche giocando A calcio A categorie Bassissime Però Anche lì Ci sono Dei piccoli insegnamenti Che ti porti dietro E credo anche In dieci anni Che faccio Bene o male Questo mestiere sul web Quindi Guardiamo Parliamo Cerchiamo di capire Il calcio Un pelo di più Sempre un pelo di più Rispetto a quanto Non eravamo ieri Quindi Questa voglia di aumentare Di un pochino Tutte le volte Credo di aver capito Imparato una lezione E cioè Il giudizio definitivo Almeno dopo Un paio d'anni Per giudicare Un calciatore Ci vogliono Almeno un paio D'anni E questo Non è Soltanto Cioè Non c'è Soltanto Quest'indice La prende in considerazione Perché Poi ci sono Tante altre variabili Come l'età Il deterioramento E bla 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 Perché Quando Qualche mese fa Si parlava Del rinnovo di Bonucci Io mi ricordo Che avevo detto No ragazzi Il rinnovo di Bonucci È una follia Di cosa stiamo parlando Perché ci mettiamo A discutere Sta roba Lo rinnovo solo Se lui accetta Di non essere più calciatore E di fare un po' Come aveva fatto Chiellini Quindi l'ultimo centrale Assolutamente là Però c'è Di Rugani E inizia a fare Un mercato sui difensori Perché guardi Il reparto difensivo centrale Della Juventus E ti metti le mani nei capelli Quindi il rinno di Bonucci Non ha senso Perché il tuo obiettivo In questo momento È fare un passo avanti E Bonucci sicuramente Non può essere quel passo avanti E mi ricordo invece Che c'era la gente Che mi diceva No però Bonucci Qui e là Su e giù Bonucci ha perso completamente Almeno prima del mondiale È stato così Perché Bremer In quella posizione È decisamente meglio di Bonucci Che non regge nemmeno più Certi ritmi E non regge più Nemmeno a livello fisico Tante volte Bonucci Abbiamo visto Fare un passo indietro Anche ultimamente Adesso è infortunato E non è che ci sia stato Non ha giocato il mondiale Non ha giocato con la Juve Quindi dal punto di vista fisico Poi c'è un decadimento Ma Bonucci è uno che Era sempre Sempre tutti gli anni Quello che faceva più minuti Nella Juve Che c'era sempre Stringeva i denti E giocava Però il tempo passa per tutti Andarrivi in una certa età È logico Che tu possa Avere Più problemi fisici Cerchio della vita Mi l'ha insegnato Mufasa Questo Nel Re Leone Quindi È normale È normalissimo Quindi Io rinnovo di Bonucci L'avrei mai fatto E credo che oggi Molte più persone Siano verso la mia idea Del non rinnovo Anche chi magari Ma no Ma sai Un paio d'anni in più Io rinnovo di Bonucci Lo trovo illogico Per quello Che oggi la Juventus Capisco Il far capire i giocatori Che indossano la maglia Per una certa Anche basta Nel senso Allora fallo dirigente Fallo dirigente Di campo Dato che Comunque Juventus In questi giorni Presenterà il nuovo CDA E a quanto pare Non ci saranno uomini di campo Ma saranno solo tecnici Nome di Del Piero In questo momento Ancora non c'è Quindi molto probabilmente Juventus Andrà a costruire Un CDA Nell'immediato E presentare in questi giorni Un CDA Di tecnici Senza uomini di campo Allora Che si possa inserire Una figura Che possa far capire Giocatori Che senza bisogno Che sia un calciatore Perché Trovo illogico Trovo illogico Veramente illogico Rinnovare un calciatore Che Certi livelli Non li regge più Per forza di cose E lo dice uno Che è sempre stato Super fan di Bonucci Come lo diceva uno Che era sempre stato Super fan di Chiellini E però ragazzi Quando arriva a un certo punto I calciatori Dovrebbero capirlo da loro Infatti Chiellini Cosa fa? Vero L'Italia non va al mondiale Però fa un passo indietro Era lì solo per quello? Probabilmente sì Probabilmente sì Però Chiellini Fa un passo indietro C'è un altro anno di contratto Riescendo dal contratto Dice no ragazzi Basta Juve è una cosa MLS è un'altra Faccio un passo indietro Questi secondo me Sono i comportamenti giusti Da parte dei calciatori Che rimanere sempre Lì ancorati Io se fossi stato in Chiellini Per dire Forse addirittura Avrei mollato La serra dell'europeo La nazionale La nazionale Perché Conto è chiudere In alto Un conto è chiudere Quando va in basso Però sempre almeno Un paio d'anni di valutazione È ovvio che con Di Maria Non li puoi fare Un paio d'anni di valutazione Con Pogba Probabilmente sì Perché hai fatto un contratto Comunque quadrennale Quindi Oggi etichettare Pogba Operazione fallimentare Secondo me è un po' presto È ovvio che oggi lo è Per quello che abbiamo Anzi Oltre il fallimentare Però Lo devi valutare nel complessivo Lo devi valutare Al termine Del percorso Del Pogba O comunque Ripeto Almeno un paio d'anni Vanno date Perché magari Quest'anno se lo prende Per recuperare L'anno prossimo Centrocampista Allucinante Che ti fa vincere da solo Tantissime partite Tantissimi trofei Che ne so Come magari L'anno prossimo Non cammina ancora E quindi sì Sare effettivamente fallimentare Però Di Maria Di Maria non lo puoi fare Un ragionamento biennale Perché ha un anno solo di contratto Quindi altri sei mesi di contratto E poi scadrà E poi probabilmente Tornerebbe nella giardina Vedremo se invece Si vorrà rinnovare Questo contratto Sembra che non ci siano stati Aggiornamenti Col procuratore Lato rinnovo Di contratto di Maria E addirittura Ci sono queste voci Che lo vogliono Lontano dalla Juve a Gennaio Cosa che Non credo Ma non mi stupirebbe L'ho già detto anche In passato L'ho detto qualche settimana fa Ho detto non mi stupirebbe Di vedere Di Maria Che va via a Gennaio Dalla Juve Perché magari qualcosa Non si è incastrato In questi sei mesi Di Maria Non mi è sembrato Proprio dentro la Juventus E non puoi nemmeno Ovvio Non puoi ragionare due anni Ma anche l'età È una componente Sto di Maria Prima facceva l'esempio di Bonucci Di Maria Siamo lì Di Maria è un giocatore A fine carriera Che ha pienamente il mondiale Che se me l'avesse chiesto Qualcuno Prima della finale Avrei detto Non da protagonista Adesso Dopo una finale In cui invece è stato Non dico MVP Perché Messi e Mbappé È ovvio che Hanno fatto la loro partita Però dopo Messi e Mbappé È stato Di Maria Probabilmente il miglior in campo E quindi Da protagonista C'è il fatto di Giocare una finale Su quel livello lì Ti rende protagonista Nel mondiale Non lo so Non ne ho idea Fatemelo sapere Anche un po' voi Perché è strana no? E allora mi chiedo Nella Juve Oggi Di Maria Perché nell'Argentina Non era un titolare Eppure a finale La gioca lui da titolare E l'1-0 Te lo fa lui Il 2-0 Te lo fa lui Cioè l'1-0 Si fa cura il rigore Il 2-0 Te lo fa lui Quindi Che cos'è oggi Di Maria? Cioè Come dobbiamo leggere Oggi Di Maria? Un non titolare Anche nella Juve Che Entra e spacca Le partite Perché quelle cose Comunque le sa fare L'abbiamo visto Il livello di Di Maria Rimane alto Ma concentrato In pochi minuti Quindi un giocatore Che ti fa mezz'ora Un giocatore da mezz'ora Ma di quella mezz'ora Che ti cambia le carte in tavola Che non fa vedere la palla All'iversario Non fa capire niente E ti crea l'occasione a gol Può essere Nella Juve L'unico giocatore Che aveva in verticale Avevano fatto l'analisi dei gol Un gol che arrivavano in verticale La palla di Di Maria Sennò gli altri non sa andare Un caso Non è un caso Secondo me non è un caso Secondo me non è un caso È un dato di fatto Giocatore che Non è titolare Ma In quella partita specifica Che ne so Prendi un esempio In esame Juve Napoli Del 13 gennaio Juve Napoli Ipotizzabile di me era titolare A questo punto Mi viene da dire di sì In quella partita specifica Mi fai i 60 minuti Fatti bene E poi ti tolgo Che cos'è oggi Di Maria Cioè qual è l'idea Della Juve su Di Maria L'idea di Allegri su Di Maria Come vorremmo sfruttarlo Di Maria Come si sente In primis Di Maria Perché accettare di essere Anche perché non puoi farci tanto Però Devi anche accettarlo Cioè l'allenatore Il CT Decide che Tu non sei un titolare In cuor tuo Devi accettarlo Devi metterti a disposizione Però la finale la giochi Perché stai bene O almeno Di Maria è stato fatto riposare Fino all'ultimo Per fargli giocare la finale Sono tante letture Vedete quante domande sto facendo Qual è la risposta giusta La Sano Di Maria Il CT dell'Argentina Basta probabilmente Però adesso non c'è più l'Argentina Adesso torna la Juve E intanto Di Maria rimarrà la Juve Anche a gennaio Secondo me sì Ma non mi stupirei del contrario E in seconda battuta Di Maria Dato che non puoi fare l'esame L'analisi nei due anni E dato che l'età ormai Sta avanzando Che tipo di giocatore sarà Quale profilo ricoprirà Alla Juventus Il Zardo Secondo me non è titolare Neanche la Juve Però la qualità di Di Maria È indiscussa ragazzi Abbiamo visto Che fa delle giocate Che Non fa nessuno forse Nella Juve Non so quanti In Serie A Nella Juve sicuramente Non le fa nessuno Quelle giocate Se non Di Maria In Serie A non lo so Vediamo Quindi E quindi secondo me sì Com'è Di Maria Sarà un vero e proprio jolly È disposto a farlo Nella Juve Ha la mentalità Per fare una Juve Aver vinto il mondiale Adesso Lo mette In una posizione scomoda Perché dice Sì ma io sono Un campione del mondo Ha visto cosa ho fatto In finale Non gioco in Serie A Non gioco nella Juventus Che nemmeno si gioca Lo scudetto Viene da complicato Adesso La gestione È bastata una partita Probabilmente sono Ipocrita Incoerente Non lo so Però Io Di Maria Fino due settimane fa Vi dicevo ragazzi Maria è una riserva Sta lì Oggi qualche dubbio in più Ce l'ho perché Cavolo Quello che io vi sto fare In finale di Coppa del Mondo Secondo me rimane E allora dico Finito non è finito Fino in fondo Ma questo lo sapevo Anche prima Però adesso Qual è la chiave giusta Qual è la lettura giusta O forse Di Maria Doveva Davvero Recuperare A livello fisico Non lo so Non lo so Io ribadisco Secondo me non è un titolare Oggi Nella Juve Però la qualità che ha È troppo più elevata Di quegli altri E quindi E quindi Quale sarà il vero di Maria Nei prossimi mesi La Juventus Aspetto un po' Anche Le vostre risposte Qui sotto nei commenti Fatemi sapere La vostra opinione E non dimenticatevi Che ogni risposta è giusta Non c'è una risposta Sbagliata